Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo brevissimo video Oggi vi andrò a mostrare un glitch per fare tantissima ma tantissima esperienza Vi ricordo che più giorni rimanete senza fare esperienza, quindi senza giocare E più questo glitch sarà efficace per voi Prima cosa ragazzi, andate qua, andate subito a mettere in creativa E il codice ve lo dirò subitissimo Eccoci qua ragazzi, andiamo in una di queste isolotte qui E questo qua ragazzi è il codice che dovrete inserire Stoppate il video per copiarvelo ma ve lo farò vedere anche qua sopra il video Una volta avviata la partita ragazzi, aspettiamo che si carichi Ok eccoci qua ragazzi, andiamo a prenderci il rampino Bisogna dirigersi verso quella zona laggiù Perfetto Salire qua sopra Premere in questo stestino qua ragazzi Una volta presa questa arma bisogna trasformarsi in questo anello Premendo R2 Andare qua giù in fondo e Premere EARN XP Da qui ragazzi inizierete a prendere tantissimi XP Guardate un po' ragazzi, veramente ma veramente tanti Potrete continuare a guadagnare XP in questa maniera Oppure molto semplicemente ragazzi potete andare qui nella secret room E successivamente andare in questo buchino qui Vi porterà in questo pulsante rosso Voi lo accenderete Ed ecco a voi ragazzi altri XP per voi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando se così fosse lasciate tutti quanti un bel like Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti E noi ci becchiamo nel prossimo video Nella prossima live Bye la rega